Sì, è un appuntamento fisso, ormai sono al settimo anno che stiamo facendo questo torneo. Come sempre abbiamo le solite squadre, 12 squadre quest'anno, tutti di ottimo livello, veramente molto molto bello come torneo. Abbiamo anche il patrocinio del comune di Pescara che ci assiste già da tre anni. Devo dire che quest'anno finora veramente le squadre sono divertite, stiamo divertendo anche noi che le guardiamo, quindi speriamo che continua così, diciamo. Il fatto di stare insieme penso sia una cosa fondamentale, non importante. È fondamentale vedere tutti questi ragazzi si divertono, poi è chiaro, durante le partite nessuno piace perdere, quindi ci può stare qualche attrito, qualche cosa, però finisce sempre con una pacca sulla spalla e tutti amici a prendersi una birra qui. Un sogno nel cassetto è fare una specie di piccolo mondialito per tutti gli stabilimenti, ogni stabilimento con la propria squadra, la propria maglietta. È un sogno che porto da diversi anni e vorrei realizzarlo. Vediamo, da qui a breve sarebbe una bella idea, diciamo. Io amo il Beach Soccer, ho sempre desiderato di organizzare tornei a livello pescarese di alta fattura e sono sette anni che va bene, portiamo dentro questo sogno, come ha detto prima Stefano, di fare il più grande torneo della Riviera Triatica con una squadra per stabilimento. Speriamo di riuscirci, diciamo, una sorta di mondialito che ci farebbe molto piacere. Abbiamo avuto giocatori che si sono affermati anche in Serie A, tipo Capuano, abbiamo anche quest'anno giocatori del cabbio di carrozza, comunque che hanno un passato glorioso, spero anche un futuro che avranno glorioso. Ragazzi di buona prospettiva, di tutte le età, buoni talenti, diciamo. Grazie. 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 Grazie.